Eccoci giunti alla seconda edizione, oggi è la stasera la prima puntata del martedì dell'Eretico, inizia quindi una nuova annata con una certa continuità con l'anno scorso, con le 38 puntate dell'anno scorso e sicuramente anche con qualche piccola novità che vedrete a partire da stasera. Stasera appunto dopo questa brevissima premessa si parte subito con una riflessione in margine a certi accadimenti che sono emersi durante l'ultimo palio, in particolare il rapporto fra il palio, la festa palio e il turismo. Poi un reportage da buon convento perché c'è una situazione molto delicata e spinosa che riguarda la sagra della Val d'Albia ma che ha delle conseguenze anche importanti dal punto di vista politico e forse anche giudiziario. E poi un ricordo più che meritato crediamo di una figura di un grande senese come Mauro Barni che ci ha lasciato nei mesi estivi e poi andiamo a concludere con una nuova rubrica appunto facce da schiaffi e quindi chi vorrà e chi starà fino alla fine a vedere il programma saprà che è la faccia da schiaffi di cui ci occupiamo in questa puntata. Buona visione a tutti! I due pali del 2017 hanno fornito molti spunti per l'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio. e gli osservatori un po' a 360 gradi e stasera in attesa poi di parlare di altri elementi legati appunto alle carriere quello uno di quelli senz'altro più di attualità anche perché è un argomento che in qualche modo perdura durante l'anno anche nei momenti extra palieschi è quello sicuramente del rapporto fra la festa e i turisti perché sappiamo, non c'è bisogno di ripeterlo, che il turismo, visto che ce lo dice spesso anche il sindaco Valentini è la principale risorsa e sarà in futuro per la città. Quindi una riflessione anche a margine di quello che è accaduto specialmente nel palio di agosto, specialmente per l'episodio spiacevolissimo che è accaduto poco prima del palio stesso nella contrada dell'onda va fatto, nel senso che quello che sicuramente si può notare è come ci sia una sorta di ipocrisia non dico generalizzata ma sicuramente da parte di molti attori, di molti elementi che sono coinvolti in questo delicato settore. Abbiamo visto per esempio a margine di questo episodio un comunicato che personalmente sul blog abbiamo attaccato chiamandolo un autogol da parte del centro guide di Siena che praticamente ha scaricato tutta la responsabilità come se non ci fosse un problema più generale sulla guida che accompagnava i due turisti malcapitati, turisti americani dicendo che praticamente la colpa è della guida perché la guida non era senese. Ma giova forse ricordare come abbiamo fatto appunto sul blog che comunque la guida aveva una conoscenza certamente questa guida in particolare non episodica della città visto che oltre a fare la guida ed essere quindi abilitata anche se non a Siena per questo ma vive a Siena da circa 12 anni quindi sicuramente non è una guida arrivata all'ultimo momento il giorno del palio. Ma sicuramente il problema di fondo qual è? Il problema di fondo è che questo rapporto è un rapporto molto complesso e delicato e per evitare episodi come quelli accaduti nell'onda ma anche molti altri episodi magari meno eclatanti anche perché si svolgono in altri momenti dell'anno sicuramente ci vorrebbe maggiore buonsenso e minore ipocrisia e minore tendenza a fare come è accaduto da parte del centro guide di Scali Cabarile. Sicuramente poi quando si parla di responsabilità anche se non tutto è governabile perché ciò che accade con i pacchetti turistici su internet è chiaro che è difficilmente controllabile ma il Comune dovrebbe cercare di dare un indirizzo in questo senso. Quando parlo di ipocrisia sicuramente mi rivolgo anche a chi all'interno del Comune dal Sindaco all'assessore preposto da una parte con una mano cercano in tutti i modi di favorire di incentivare l'arrivo dei turisti anche nei giorni del Palio considerando esplicitamente il Palio come una risorsa turistica anzi la risorsa turistica per eccellenza e poi non ci si può lamentare se accadono episodi come questi che sicuramente sono frutto anche di un contesto particolare. Nei giorni più caldi di questa polemica al 22 agosto una persona che di turismo vive da tempo, Roberto Guigiani che spesso scrive interventi sul turismo ne ha scritto uno sul filo dell'ironia già dal titolo Lo confesso, ho portato turisti al Palio e che cosa fa Roberto Guigiani che ha un'esperienza che dura da molti anni semplicemente descrive qual è il modus operandi il modo di fare del tour operator normale anche basato su Siena da molto leggo solo questo passaggio si chiede a qualche amico il favore di procurarsi le tessere per la cena della prova generale si va dai palcaioli e si comprano i biglietti per assistere alla corsa si confeziona il tutto in un pacchetto di vari giorni che spesso comprende anche altre cose come visite ai musei cene tipiche, degustazioni di vino e magari assistere in piazza alla prova generale quindi vedete, gli attori sono molti ci sono i tour operator c'è chi di turismo vive c'è il ruolo della contrada stessa che ovviamente sa bene che molte delle tessere che vengono vendute non sono per contradaioli o neanche simpatizzanti ma per persone che vengono per motivi meramente turistici e via dicendo quindi quello che ci vorrebbe sarebbe prima di tutto equilibrio non cercare di avere come si dice la botte piena e la moglie ubriaca e soprattutto direi evitare come spesso accade ed è accaduto anche in questa occasione di fare la cosa più semplice ma anche forse meno nobile cioè fare lo scaricabarile e dare sempre la colpa a qualcun altro sappiamo bene come in terra di Siena tutto ciò che concerne le feste le sagre e via dicendo abbiano un sostrato culturale e di passionalità molto forte ovviamente tutti pensano al Palio di Siena e anche stasera infatti apriremo una finestra sul Palio di Siena ma ora siamo a buon convento siamo a buon convento perché in questa cittadina del sud della provincia una cittadina ricca di storia la città in cui è morto l'imperatore Arrigo VII nel 1313 la città che ha un museo diocesano di grande importanza il museo della Mezzadria e via dicendo fra le altre cose da molti anni c'è la tradizionale sagra della Val d'Arbia che si tiene nella seconda metà di settembre di ogni settembre e quest'anno però sarà una sagra della Val d'Arbia differente rispetto agli anni precedenti perché nei mesi scorsi si è creato un forte contrasto fra l'amministrazione comunale e i quartieri i quartieri che sono quattro nel caso specifico della cittadina della Val d'Arbia i quali avevano sempre organizzato questo evento un evento gastronomico molto seguito molto partecipato in questa parte della provincia con tanta gente ovviamente che viene anche da fuori buon convento e perché c'è stato questo problema il problema nasce dalle esigenze dell'amministrazione comunale di avere una rendicontazione maggiore e secondo appunto l'amministrazione comunale migliore di come vengono gestiti i fondi i proventi che arrivano dalle persone che vengono a mangiare alla suddetta sagra della Val d'Arbia e praticamente il comune voleva vuole ha voluto imporre anche la biglietta la scontrinazione cioè il fatto che le consumazioni debbano essere accompagnate all'atto del pagamento dallo scontrino e su questo e su altre cose è sorta una polemica noi siamo qui a buon convento per cercare di capirne e di saperne di più e quindi iniziamo a vedere che cosa possiamo dirvi Signor Alessandro allora un suo parere su questa questione queste polemiche che ci sono è nata tutta diciamo così da quando il comune ha fatto un determinato regolamento e siamo andati in gara la vicenda l'abbiamo ricordata no un suo parere personale un suo parere personale ancora quello che si dovrà fare come la fa la prologo non si sa è tutta un'incognita per ora secondo me secondo lei l'obbligo appunto della rendicontazione e degli scontrini è giusto o no? secondo me è giustissimo è giusto perché non si può fare per esempio porto un esempio bisogna sapere quanti pasti sono entrati e quante sono le uscite chiarissimo chiarissimo non è mai avvenuto finora commento sulla sagra te la sentiresti mi dà? non sono del non sono del paese hai saputo un po' di queste polene sì però non mi sono mai che non saprei cosa non glielo so dire perché non sono al corrente di nulla vatti veramente va bene grazie lo stesso buonasera buonasera scusi quindi il commento su questa questione della sagra niente di buon convento non sono del paese non è del paese allora basta come non detto ecco siamo con il sindaco di buon convento il dottor Paolo Montemerani che è sindaco da quanto tempo le elezioni sono state da 2014 quindi è un sindaco che ormai ha in mano il comune da circa tre anni quello che è successo l'abbiamo detto nel lancio della puntata cioè questa contrapposizione fra l'amministrazione comunale da un lato che lei rappresenta al massimo grado e dall'altra i quartieri i quartieri i quattro quartieri che organizzano da molti anni l'evento appunto sagra della della Val d'Arbia ecco io ho già scritto sull'argomento per i miei lettori lo sanno nel blog schierandomi in un certo modo perché ritengo che quando un sindaco chiede maggiore trasparenza maggiore trasparenza e quindi una migliore rendicontazione il discorso degli scontrini sia sempre e comunque da appoggiare prima però un paio di domande che magari le faranno meno piacere delle altre le devo fare la prima è che raccogliendo appunto delle voci e via dicendo ecco c'è chi dice che il sindaco Montemerani abbia come grande abbia avuto come grande sponsor una figura certamente importante e controversa qui a Buon Convento cioè l'ex pezzo forte di Finmeccanica il dottor Borgogni che sappiamo ha avuto anche diverse traversie giudiziarie e del quale c'eravamo occupati anni fa sul blog lei che cosa ha da replicare a questo ma niente di particolare la storia del del Borgogni di Lorenzo Borgogni credo sia nota credo sia nota a tutti ha seduto anche in consiglio comunale a suo tempo certo prima di di diventare un pezzo importante del del gruppo Finmeccanica è stato capogruppo è stato consigliere comunale quindi ha una storia anche politica ha una storia anche politica dietro socialista se non sbaglio dalle fila vedo che lei è adeguatamente informato allora quindi stiamo scendendo di diversi anni indietro ovviamente era uno degli uomini del partito socialista ovviamente qui a buon convento come tradizione storica perché se si guarda negli annali questo questo è si creava sempre una lista cosiddetta di sinistra o di centro sinistra dove confluivano ovviamente le forze politiche che a quell'epoca ma andiamo andiamo al presente sindaco appunto ecco a chi muove questa obiezione lei che cosa potrebbe rispondere io sinceramente come ha votato il Lorenzo Borgogni non lo so me lo posso immaginare perché appunto noi la mia lista è una lista di centro sinistra dove si è raggruppato tutto il mondo del centro sinistra lui le simpatie verso questo tipo di mondo l'ha sempre manifestate va bene sia nel passato sia attualmente quindi non c'è nulla non c'è assolutamente nulla da nascondere sotto questo sotto questo aspetto almeno così io presumo poi certamente non ha fatto lei pensa ecco per finire su questo sull'argomento Borgogni che la figura di Borgogni quindi non abbia più in paese la presa che poteva avere avuto prima oppure ovviamente non ha la stessa presa di prima vede professore è un po' come è un po' come fare altri paragoni di uomini forti della politica senese va bene non mi faccio a fare nomi ma insomma ognuno ce le possiamo immaginare ce le possiamo immaginare gente che ha seduto a un Parlamento va bene che ha avuto tantissime preferenze in provincia di Siena e ovviamente è chiaro che all'apice e al vertice di certe situazioni tutti poi a molta gente piace salire sul carro del vincitore tanto questo è una dinamica è una dinamica come minimo nazionale ecco senta Sindaco ecco un'altra cosa appunto entrando ora sull'argomento specifico della Sagra appunto della Val d'Albia qui ho un documento in cui che immagino appunto coloro che sono favorevoli alla tesi dei quartieri per loro sia importante perché proprio dal comune di Buon Convento c'è il responsabile dell'area amministrativa dottor Sabatini Francesco che aveva espresso un parere tecnico leggo qui virgolettato esprime parere tecnico negativo in relazione all'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale per il servizio di somministrazione dei pasti e via dicendo ecco qui è lo stesso è un responsabile dell'area amministrativa che dice che non c'è l'obbligo a livello nazionale di fare questo però ci dica esatto il dottor Francesco Sabatini come responsabile dell'area amministrativa ha delle perplessità su questa cosa e le ha espresse esplicitamente nell'atto che ha allegato però si dice il vero quando si parla di assetto fiscale delle associazioni non profit quindi anche nel caso dell'associazione quartieri non si dice una bulla ecco è importante questo è un'associazione non profit non ha fini di lucro ovviamente o non dovrebbe averli però ci dimentichiamo faccio un passo indietro faccio un passo indietro noi non abbiamo imposto all'associazione quartieri per tutte le loro attività che fanno durante l'anno a buon convento vincoli di nessun tipo e di nessun genere gli abbiamo sempre dato la massima collaborazione gli abbiamo sempre dato il patrocinio gli abbiamo dato sempre il suolo pubblico gratis ovviamente legato al patrocinio per tutta una serie di iniziative carnevale tribiatura festa della tribiatura cena della luna d'estate tutta una serie di iniziative perché è un'associazione che vive 365 giorni all'anno e quindi fanno tutta una serie di cose abbiamo pensato di imporre questo solo e soltanto e limitatamente per la sagra della val d'arbia regolamento della sagra devo precisare anche che la sagra ovviamente ha una valenza tutta particolare è l'unica manifestazione dove il comune diciamo partecipa e organizza diciamo anche in prima persona il comune mette a disposizione dei mezzi finanziari va bene 7000 euro più mette a disposizione il suolo pubblico va bene per tutto il suolo pubblico quindi in modo gratuito in modo gratuito quindi ora mi riuscirebbe difficile quantificargli quanto potrebbe venire se fosse l'importante è sapere che è in modo gratuito più ha sempre fornito un supporto tecnico logistico del suo personale tecnico dell'ufficio tecnico compreso anche gli operai va bene allacciamenti elettrici allacciamenti idrici tutta una serie di cose che comunque anche quelle che vengono fatti quindi da parte di personale del comune del comune va bene questo è avvenuto sempre nel corso degli anni e quindi diciamo che la manifestazione ha comunque anche una certa onerosità per il comune siccome non non abbiamo avuto risposta a tutta una serie di cose che abbiamo chiesto va bene a suo tempo alla fine il consiglio comunale ha deciso quasi all'unanimità perché comparte anche dell'opposizione comparte anche comparte quasi nel consiglio comunale di buon convento si edano tre forze il gruppo di centro-sinistra il gruppo papini centrodestra e il movimento cinque stelle il gruppo papini centrodestra è schierato con il sindaco da questo punto di vista mentre invece il gruppo 5 stelle il consigliere è schierato contro lo diciamo per gli spettatori non di buon convento in termini semplici per quanto riguarda proprio il discorso che facevamo della rendicontazione in buona sostanza dalla documentazione che ho in mano si evince che effettivamente c'è una curiosità che la rendicontazione è stata piuttosto analitica per quanto riguarda le spese le uscite e invece praticamente non ci sono dettagli per quanto riguarda il discorso delle entrate per l'anno scorso 108 circa 108 mila euro per le entrate a fronte di circa 69 mila per le uscite quindi a parte quello c'è anche chi sul blog appunto ha cercato rifare dei calcoli ma ora lasciamo stare ma sicuramente questa differenza tra la rendicontazione analitica delle spese e invece questa rendicontazione molto meno anzi inesistente dal punto di vista dei dettagli per quanto riguarda le entrate questo indubbiamente colpisce colpirebbe chiunque questo credo che sia ecco un argomento indubbiamente su cui il comune fa forza guardi lo scopo dell'amministrazione comunale in tutta questa purtroppo sgradevole vicenda è soltanto è soltanto noi abbiamo soltanto l'obiettivo di avere chiarezza su queste cose si fa un ragionamento molto semplice la sagra della Val d'Arbia è il momento clou del paese di Buon Convento è un evento particolare e credo sia giusto che tutti i cittadini di Buon Convento sindaco consigliati comunali ma tutti i semplici cittadini di Buon Convento abbiano le idee più chiare che sia possibile su quello che avviene durante la sacra e come avviene questo è il requisito di fondo per cui noi non vogliamo perché qualcuno in giro è andato anche a dire il comune vuole mette le mani sopra soldi no no io non ho assolutamente bisogno il comune di Buon Convento finanziariamente non sta bene e lei lo sa benissimo io sono arrivato qua con una situazione finanziaria difficilissima 3 milioni di euro da in qualche modo sistemare e da ripianare dico questo noi sulla sagra dobbiamo contribuire come amministrazione comunale non prendere nulla dare e non avere però credo che sia dovuta a tutta la cittadinanza per la loro festa clou del paese sapere quello che entra e quello che esce chiunque sia il soggetto che organizza e che collabora con il comune a questa cosa per arrivare a questa massima chiarezza nel regolamento siamo arrivati al punto di dire bilancio certificato che questo è un altro aspetto che se ne parla poco bilancio certificato e ricevute fiscali nel territorio intorno a Buon Convento ma lei lo sa senz'altro ci sono anche altri eventi significativi veramente al confine di Buon Convento in comune dove associazioni prologo fanno regolarmente durante gli eventi le ricevute fiscali e non è successo assolutamente nulla niente di grave ma vicinissima anche a noi comune d'Asciano comune di Monteroni va bene non è che vi faccio l'esempio quindi noi non vogliamo ripeto non vogliamo imporre all'Associazione Quartieri nulla di che su tutte le altre manifestazioni che lei fa ma se vuole lavorare chiunque loro in prima persona vogliono lavorare alla sagra le cose bisogna che seguano i canali che abbiamo detto e oltre per finire su questo aspetto e poi arrivare all'ultima domanda e c'è anche da parte appunto del comune è stato presentato un esposto alla guardia di finanza quindi siamo arrivati anche a interessare eventualmente potenzialmente la procura della repubblica ora vedremo ovviamente quello che accadrà l'esposto è di metà agosto quindi è relativamente fresco ecco la domanda conclusiva signor sindaco a metà settembre così ne approfittiamo per fare anche pubblicità a metà settembre comunque la sagra anche quest'anno ci sarà ecco non è quindi più gestita direttamente dai quartieri ma dalla proloco se abbiamo ben capito ma questo passaggio credo importante c'è stato un avviso pubblico ma per la persona il turista o il senese la persona non di buon convento che volesse venire qua cosa cambierà concretamente se cambierà qualcosa ci saranno gli scontrini esatto poi sostanzialmente la proloco che poi ci tendo a precisarlo anche un aspetto che non è secondario il il 18 di luglio in sala di consiglio si è tenuta una riunione fra l'amministrazione comunale la proloco e l'associazione quartieri presenti tutti i vertici ovviamente io consigliere delegato il il presidente della proloco con due consiglieri e il presidente dell'associazione quartieri con altri due consiglieri dove la proloco pur uscendo diciamo vincitrice dalla selezione dell'avviso pubblico ha chiesto una selezione che è stata contestata lo dobbiamo dire ho qui un po' di documentazione da parte dei quartieri questo va detto ma che lo prevede il regolamento perché il regolamento ci facciamo sempre il regolamento della Sacra ha sempre detto fin dalla sua prima edizione inverno 2014 che il comune se c'è un progetto unitario delle associazioni di buon convento prende il progetto delle associazioni di buon convento e si lavora tutti insieme qualora questo non si verificasse il comune va ad emettere un avviso pubblico dove parteciperanno le varie associazioni abbiamo provato anche dopo va bene abbiamo provato anche dopo l'avviso pubblico per disponibilità della proloco a dire all'associazione quartieri guardate andiamo avanti cercando una collaborazione cercando una collaborazione dicendo a quel punto lì il bando chiamiamolo così impropriamente per rendere bene l'idea comunque l'avviso pubblico in buona sostanza non è che il comune l'avrebbe ritirato ma sarebbe decaduto di fatto se c'era un accordo fra proloco e associazione quartieri come avvenuto l'anno precedente era lo spirito primario del regolamento della sagra che dice signori la prima soluzione è quella poi in subordine se non va avanti quello ovviamente poi qualcuno ci avrà da farla questo tentativo si è arenato sempre sul discorso scontrini fiscali noi non possiamo cambiare il sistema contabile che è il nostro amministrazione eccetera eccetera quindi la proloco la proloco dobbiamo arrivare alla conclusione ma chi vuole venire troverà lo stesso la sagra della vallaria cosa è successo la proloco ha detto allora a questo punto andiamo avanti da soli organizziamo e si stanno organizzando ora credo proprio che domani dopodomani uscirà già il programma della sagra della 49esima della 49esa edizione della sagra che come ha detto lei per chi verrà da fuori non ci saranno e ci saranno quattro ristoranti aperti noi si chiamano taverne ma insomma comunque quattro ristoranti quattro punti per mangiare quattro punti va bene in quattro in quattro sistemazioni trovate all'interno diciamo del comprensorio del centro storico dove si faranno si farà la cucina tipica locale del nostro territorio ovviamente benissimo e quindi noi possiamo dare l'appuntamento a tutti appunto locali e non locali per la seconda metà di settembre per la sagra della val d'arbia in cui si mangia si beve e si fanno gli scontrini ecco sì esatto diciamo che forse rispetto all'anno scorso l'unica l'unica novità ma che credo non disturberà senz'altro chi verrà a cena o a pranzo alla sagra sarà quella di avere uno scontrino fiscale grazie signor sindaco grazie a voi in questa estate 2017 ci ha lasciato fra gli altri anche Mauro Barni una figura senza retorica di grande senese che ha ricoperto moltissimi incarichi lo diciamo magari per i più giovani che non ne conoscevano la figura è stato intanto sindaco di Siena dal 1979 al 1983 per il partito socialista è stato rettore dell'università dell'università per stranieri ha avuto incarichi importanti anche a livello extramenia con per esempio la presenza nel comitato nazionale di bioetica una prestigiosa presenza questa di Mauro Barni in cui sicuramente ha fatto sentire la sua voce di laico ecco e va detta una cosa che la figura è una figura veramente importante per la Siena degli ultimi decenni e bisogna dire che poi ovviamente come tutte le persone che a lungo hanno una carriera politica anche politica e amministrativa sicuramente ci sono anche cose dal nostro punto di vista meno edificanti come per esempio il fatto di avere appoggiato nel 2011 in modo importante anche l'ascesa elettorale dell'allora candidato sindaco del PD Franco Cecuzzi erano appunto gli anni del sistema Siena ma al di là delle tante luci e di qualche ombra che inevitabilmente avvolge la figura di Mauro Barni resta veramente una persona squisita a livello umano a livello personale per quello che può essere stata anche la conoscenza diretta mia come di tantissimi altri e dobbiamo dire come abbiamo fatto a suo tempo sul blog ci piace sottolineare una cosa in particolare di Mauro Barni cioè la sua grande curiosità intellettuale Mauro Barni sempre presente in veramente quasi tutte le conferenze che si sono che si tenevano che si tengono a Siena durante l'autunno inverno primavera e non solo presente ma quasi sempre anche deciso a prendere la parola per dire la sua a livello critico a livello di memorialistica personale e tra l'altro ci piace visto che siamo nella rubrica settimanale che riprende meno facebook più libri fra i tanti contributi che ha dato alla conoscenza della sua città di Siena anche una collaborazione molto recente perché della fine del 2016 in questo libro l'esperienza della grande guerra a Siena di cui ci siamo già occupati a margine della meritoria mostra su fotografi e grande guerra organizzata a Santa Maria della Scala da Gabriele Maccianti ebbene uscirono due volumi uno è questo appunto di cui vi parlo e all'interno di questo insieme a contributi di altri storici c'è quello di Mauro Barni sull'assistenza sanitaria a Siena nella grande guerra una Siena di un secolo fa che era fortemente impregnata purtroppo di malattie di cui oggi si ha una lontana eco la tubercolosi in primis ma non solo in queste pagine molto dense e ben documentate Mauro Barni dimostra di essere quello che è sempre stato cioè un medico molto attento medico legale molto attento ovviamente alla questione sanitaria queste sono pagine che sono degne di entrare le abbiamo rilette pochi giorni fa davvero a livello di storia della medicina senese e non solo meritano di essere lette quello che purtroppo in conclusione dispiace è vedere come la città che ha salutato per l'ultima volta quest'estate Mauro Barni sia una città che purtroppo sta per perdere se la cosa non verrà recuperata alla fine in extremis sta per perdere cinque scuole di specializzazioni tra cui quella proprio di medicina legale e questo certo non è un bel viatico per il futuro e non è neanche un modo direi per onorare degnamente la memoria di Mauro Barni questa è una cosa che dobbiamo segnalare e che sicuramente non avrebbe fatto piacere a Mauro Barni ecco una nuova rubrica di questa annata nuova del martedì dell'eretico è quella che abbiamo denominato facce da schiaffi nel senso che ogni settimana troveremo proporremo una figura che ha avuto qualche relazione con Siena o ovviamente di senese di cui diremo qualche cosa di diciamo curioso e interessante il titolo di questa rubrica facce da schiaffi deriva da un libro di un grande autore satirico legato alla politica Mario Melloni detto forte braccio che quelli che sono un po' più avanti con gli anni sicuramente ricorderanno oggi stasera parliamo di una figura di una persona di un personaggio non senese ma che con Siena ha avuto molto a che fare negli anni scorsi e in particolare del banchiere Vincenzo De Bustis nato a Roma nel 1950 da sempre banchiere ma vicino alla politica in particolare a D'Alema e perché i rapporti con Siena ovviamente chi è più addentro da qualche anno alle cose senesi e alla banca in particolare lo sa bene perché nel dicembre del 1999 MPS per 2500 miliardi di lire ovviamente acquista la quota di maggioranza della banca del Salento in cui appunto da cui De Bustis viene e poi nel 2005 il tutto viene perfezionato con l'acquisizione del 100% della banca stessa e De Bustis con grande sorpresa visto che insomma la situazione non era diciamo così ovvia nel 2000 dal 2000 al 2003 anni molto importanti per il Monte Le Paschi diventa l'amministratore delegato appunto di MPS dopo l'esperienza in MPS va alla Deutsche Bank Deutsche Bank Italia quindi diventa il massimo diciamo esponente di questa importante banca tedesca basata in Italia poi si dà alla private equity e con una banca che poi viene assorbita in seguito ma nel 2011 fa il grande ritorno come direttore generale della Banca Popolare di Bari diciamo questo perché nei giorni scorsi in particolare il 29 agosto scorso quindi notizia diciamo relativamente fresca viene fuori appunto che vari elementi della Banca Popolare di Bari tra cui appunto Vincenzo De Bustis sono indagati in una inchiesta che promette di essere piuttosto esplosiva ci sono ostacoli ci sono indizi e ipotesi di reato molto pesanti tra cui ostacolo alla vigilanza e associazioni per delinquere e quindi assistiamo a questa fase forse finale della vita di banchiere da parte di De Bustis che indubbiamente da ora in avanti dovrà fronteggiare anche questo probabile anche se ancora non sicuro processo in terra pugliese e noi proprio alla figura di Vincenzo De Bustis a Siena così importante soprattutto qualche anno fa dedichiamo questa breve clip ancora tu non mi sorprende lo sai ancora tu ma non dovevamo vederci più e come stai? domanda inutile stai come me e ci scappa da ridere amore mio hai già mangiato o no o no 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 non no Grazie per la visione!